Bene, parliamo adesso della strategia europea per l'occupazione, la cosiddetta SEO, strategia europea per l'occupazione, che cos'è? È appunto la strategia che la comunità europea ha elaborato in materia di occupazione, abbiamo detto che la comunità europea non ha una specifica competenza in materia di occupazione, in materia di mercato del lavoro e pertanto ha finito per elaborare una strategia, una strategia capace di realizzare degli obiettivi comuni e infatti abbiamo detto che dalla seconda metà degli anni 90 in poi anche tutti i processi di innovazione, delle politiche attive nei vari stati membri si sono conformati, hanno teso a incanalarsi entro quelle che sono le finalità promosse della strategia europea per l'occupazione e quindi della strategia europea per l'occupazione emergono, si caratterizza per quattro principali obiettivi più o meno, no tre diciamo, uno rivolto a un processo di inclusione, quindi realizzare una pari opportunità tra lavoratori e quindi cercando appunto di rottare la domanda anche su quelli che sono i lavoratori che sono o più a rischio di emarginazione o comunque che versano in un particolare stato di svantaggio occupazionale. Poi c'è l'elemento che invece riguarda la possibilità di dotarsi di un sistema, di un mercato lavoro in qualche modo più duttile, più capace di adattarsi, quindi caratterizzato da una capacità di adattamento alle nuove realtà economiche, alle nuove situazioni economiche, sempre in via appunto di mutevolezza. E quindi inclusività, quindi pari opportunità, capacità appunto di adattamento al sistema del mercato, del lavoro, che si riflette appunto in una maggiore efficienza del mercato economico in generale e poi anche un altro aspetto che caratterizza appunto la strategia europea per l'occupazione è quello relativo alla competenza, alla qualifica comunque del lavoratore. Quindi tutto ciò significa appunto portare appunto i paesi membri a dotarsi di strumenti, quindi di servizi per l'impiego capaci di realizzare questi obiettivi. Quindi inclusività, adattabilità del sistema e qualificazione del lavoratore, qualifica e competenza del lavoratore. Però diciamo che già con il vertice di Lussemburgo del 1997 e il Consiglio europeo comunque di Lisbona del 2000, la strategia europea per l'occupazione ha iniziato a prendere una forma diciamo più compiuta, più specifica, perché chiaramente emergono dei problemi, perché rendere più duttile, più dinamico il sistema, diciamo il mercato del lavoro, chiaramente significa comunque non rinunciare a quelle che sono le protezioni nei confronti del lavoratore. Quindi si rende chiaramente più duttile, più dinamico il sistema, appunto il mercato del lavoro se si favorisce diciamo il passaggio da un'occupazione all'altra. Quindi questo significa fornire dei servizi per l'impiego che accompagnino il lavoratore per tutto il suo percorso appunto lavorativo nel corso della vita. E che servizi anche per l'Oriente, però diciamo favorire passaggio da un'occupazione all'altra, se rende il sistema più dinamico, perché è maggiormente in grado di affrontare le nuove esigenze. Ecco ad esempio pensi al caso quando c'è stata la mucca pazza, no? Ecco c'è la mancanza di personale qualificato, no? Perché era impegnato in altre attività lavorative e quindi non si poteva far fronte a una necessità che invece era in questo caso sul piano sanitario anche impellente. Cioè esigeva una dinamicità maggiore, no? Nella possibilità appunto di certi soggetti di abbandonare magari la loro occupazione per, diciamo, far fronte a quelle che erano nuove esigenze, no? Però questo si verifica non solo quando c'è un'emergenza, sul piano sanitario, ma anche sul piano delle nuove, diciamo, dei nuovi orientamenti, sul piano appunto anche imprenditoriale. E quindi diciamo che rendere più dinamico il sistema comunque del lavoro, il sistema del mercato del lavoro, significa comunque magari da un lato, diciamo, presenta due problematiche secondo me. Da un lato sul piano della competenza e della qualifica, quindi l'obiettivo relativo a rendere il lavoratore sempre maggiormente competente e qualificato, chiaramente per certi versi si contrappone proprio l'esigenza di rendere il mercato del lavoro più dinamico, perché fare passare un lavoratore da un'occupazione all'altra può in qualche modo diminuire, no? La sua possibilità sul piano formativo, la possibilità, diciamo, di avere un lavoratore occupato che sia anche competente e qualificato. Quindi, diciamo, si deve rendere il sistema più dinamico al tempo stesso senza rinunciare alla qualifica e alla competenza comunque del lavoratore. Poi, e quindi questo significa fornire dei servizi per l'impiego, diciamo, oltre a servizi per l'impiego, diciamo, dei servizi per l'impiego che siano anche, ad esempio, non solo servizi per l'orientamento, sul piano appunto del passaggio da un'occupazione all'altro, ma anche servizi, ad esempio, di formazione professionale. Magari che siano appunto i più veloci, concisi, sistematici possibili. Comunque, a parte tutto ciò, dicevamo, non solo si presenta la problematica, cioè rendere il sistema del mercato del lavoro più dinamico non presenta solo, diciamo, il problema di comunque mantenere un certo livello di competenza e di qualifica, ma anche, diciamo, costringe il lavoratore ad abbandonare quelle protezioni che in passato erano stabilite solo nei confronti comunque dei lavori, diciamo, del lavoro ordinario, quindi lavoro a tempo determinato o indeterminato. Quindi il sistema di previdenza, quindi come è strutturato il sistema di previdenza sociale, sicuramente incide sulla possibilità e sulla scelta anche del lavoratore di abbandonare la propria occupazione per impiegarsi in un altro settore, perché se chiaramente il trattamento pensionistico viene garantito solo a chi ha un'occupazione stabile, duratura, chiaramente questo incide sulla scelta di passare ad una nuova occupazione e quindi questo irrigidisce sicuramente il sistema del mercato del lavoro. Quindi da questi già dal vertice di Lussemburgo del 1997 e dal Consiglio Europeo del 2000, Lisbona, si sono iniziati a elaborare, per la finalità di questi obiettivi che caratterizzano le strategie europee e per l'occupazione, in maniera più concisa, appunto anche quelli possono essere gli strumenti e le problematiche relative alla possibilità appunto di creare un sistema di lavoro più dinamico e quindi in quest'ottica si sono creati già la cosiddetta flex security, così come anche un nuovo welfare appunto per favorire in ciascun paese membro la possibilità di dotarsi di una struttura, di un sistema comunque previdenziale che in qualche modo garantiscano la possibilità di rendere più dinamico il mercato del lavoro. Con la flex security ci si riferisce proprio al rapporto che può sussistere da un lato tra la flessibilità del mercato del lavoro, quindi agevolare la flessibilità del mercato del lavoro, ma dall'altro senza rinunciare comunque la sicurezza anche, quindi le protezioni non solo sul piano previdenziale ma anche ad esempio delle modalità diciamo proprio delle misure di sicurezza che vengono adottate anche per ogni impiego. E quindi tutto ciò appunto si è delineato con maggiore precisione, però tiene sempre insomma la strategia europea per l'occupazione. Nel 2005 però abbiamo una fase successiva con il vertice, cioè con il vertice, con il progetto comunitario di Lisbona, quindi nel 2005 abbiamo appunto un vertice a Lisbona che determina proprio il progetto comunitario di Lisbona che per certi versi assume insomma caratteri innovativi sotto l'aspetto anche delle modalità e dei tempi con i quali devono essere realizzati gli obiettivi, ad esempio obbligando ciascun paese aderente, perché poi nel 2004 ricordiamo si è avuto anche l'ingresso nell'Europa di altri dieci paesi e quindi comunque tutto ciò ha previsto insomma la necessità comunque di rendere ancora più sistematica una strategia, quindi di elaborazione, si è resa la necessità di elaborare comunque un progetto per riuscire a perseguire questi obiettivi comuni in modo più efficiente, soprattutto in ciascuno Stato e quindi obbligando proprio ciascuno Stato aderente a pianificare un progetto di riforma specifico per la realizzazione di questi obiettivi comuni. Emergono poi, e poi ad esempio sappiamo appunto le modalità prevedendo un piano di revisione a cicli trennali, infatti dopo il vertice nel 2005 si è avuto poi il PCL, il progetto comunitario di Lisbona del 2008. Nel 2008 sono stati ulteriormente appunto stabiliti, diciamo precisati gli obiettivi. Poi diciamo che già appunto anche il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 è importante perché stabilisce per la prima volta un obiettivo strategico, quindi gli obiettivi appunto del progetto comunque di orientamento dell'asseo, vengono pertanto incanalati in obiettivi strategici rivolti a realizzare un'economia, diciamo c'è una cosa che si è una finalità utopica, di realizzazione di un'economia che fosse la più efficiente e competitiva di tutte le altre a livello mondiale. Perché? Perché è basato sulla conoscenza e quindi questo ha fatto sì appunto che poi successivamente si delineassero più compiutamente le modalità con le quali perseguire gli obiettivi, che però poi sono stati disattesi, diciamo che era prevista la realizzazione degli obiettivi previsti per il 2010, ecco invece la realizzazione di questi obiettivi è stata disattesa e quindi poi se passati alle cosette pere, diciamo se volessimo appunto siglare il progetto di ripresa economica, il progetto europeo di ripresa economica, quindi pere, se lo sigliamo come la strategia europea per l'occupazione del SEO, il progetto comunitario di Lisbona PCL, mentre il progetto europeo per la ripresa economica sono le pere, comunque sì, adesso parte la stupidaggine varie, adesso sto ripassando, quindi questa è una fase di studio, appunto in questo progetto si sono, non in questo progetto, diciamo già appunto nel PCL del 2008, in pratica emerge un ulteriore obiettivo che è quello relativo al tasso, all'inalzamento del tasso comunque di soggetti che tra un'età compresa, insomma tra i 30 e i 33 anni, completo un ciclo di studio universitario e un abbassamento invece dei tassi anche di abbandono scolastico, questo con riguardo, con specifico riferimento comunque anche all'aspetto relativo agli obiettivi che riguardano la competenza, la qualifica non professionale e ribadendo chiaramente tutti gli altri obiettivi relativi ad utilità del sistema comunque del mercato lavoro e l'altro e all'inclusività, quindi con riguardo all'inclusività ad esempio si sono individuati soggetti che possono essere magari a rischio sul piano occupazionale come i minori, le donne ma anche gli immigrati e perfino diciamo quei soggetti che siccome magari per propria qualifica e crisi nel settore appunto in cui si sono qualificati magari sono a rischio di emarginazione nel mercato lavoro perché vivono uno stato di disoccupazione prolungato, quindi tutti questi soggetti, minori, donne, emigrati, questi soggetti, quindi disoccupati diciamo per certi direttori di corrette cronici, sono soggetti che vivono uno stato comunque di svantaggio occupazionale e pertanto nel loro confronto di essere elaborata comunque una strategia inclusiva che garantisca appunto una maggiore coesione sociale, sempre in vista appunto che sono gli obiettivi strategici rivolti a un'economia più come dicevamo più competitiva, un'economia più rivolta appunto a crescita economica e anche a coesione sociale e al tempo stesso dicevamo però questi obiettivi poi non sono stati raggiunti e allora nel 2008 si è dovuti ricorrere a un programma appunto europeo di ripresa economica che da un lato riconfermasse appunto gli obiettivi comunque strategici riconducibili appunto a quelle caratteristiche già proprie della strategia europea sull'occupazione che avevamo già appunto elencato e dall'altro però che consentisse diciamo di concentrarsi in realtà sul perseguimento, innanzitutto posticipasse il perseguimento di questi obiettivi posticipandolo invece al 2020 e però diciamo più che per il perseguimento di finalità per certe estra virgolette utopiche come quelle che magari caratterizzano il progetto relativo al consiglio europeo comunque di Lisbona del 2000 che fossero magari incentrate se non altro alla realizzazione di obiettivi che si di finalità e obiettivi che si ritiene possano essere raggiunti effettivamente nel 2020 e questi appunto sono sempre sul piano dell'inclusività e della qualifica del lavoro gli stessi appunto che abbiamo già elencato ma a questi spunti si aggiungono innanzitutto l'inalzamento del tasso comunque del percentuale di occupazione delle persone ad esempio più anziani, poi il fatto di riservare almeno un 3% del prodotto interno a livello europeo alla ricerca e allo sviluppo e poi emergono comunque nel progetto comunque europeo di ripresa economica anche altre cose che magari non si diciamo non sono direttamente collegate proprio all'argomento che stiamo trattando come ad esempio la riduzione diciamo una riduzione delle emissioni e quindi sotto profilo climatico appunto una riduzione delle emissioni se è possibile per quanto appunto si riesca se appunto le condizioni lo permettono quindi diciamo anche un'attenzione appunto l'aspetto diciamo sulle condizioni climatiche e poi appunto dicevamo un obiettivo sempre riconducibile a un abbassamento dei tassi di abbandono scolastico e un innalzamento invece di quelli che caratterizzano l'istruzione.